Un saluto a tutti e grazie, grazie ad essere qui per la vostra attenzione e per il vostro interesse. Io sono Lidia Ferrari dell'esecutivo di Amnesty Lazio e sono qui come coordinatrice nazionale per l'Africa centrale orientale di Amnesty International. Oggi parliamo dei diritti umani e della situazione del Sudan. Ne parliamo grazie ad Antonella Napoli che è una giornalista, scrittrice, opinionista per varie testate internazionali e direttrice di Focus on Africa e colloquerà con lei e la intervisterà Riccardo Nuri, che è il portavoce nazionale di Amnesty Italia. Io ringrazio Riccardo e Antonella per questa loro partecipazione e do loro la parola. Grazie. È davvero un grande piacere poter parlare con Antonella Napoli, in primo luogo un'amica e poi una giornalista di grande competenza, esperta di tante questioni di Africa e non solo. Allora Antonella, in queste settimane vengono ricordati decini e anniversari vari di primavere, cosiddette primavere arabe, però c'è stata una primavera molto più recente, nel 2019 in Sudan, che possiamo dire è quasi diventata un'estate. La rivolta del pane in Sudan è stato un evento storico che ha portato alla fine di un regime sanguinario trentennale sotto la guida di un generale, Omar al-Bashir, che tra l'altro era presidente in carica, nonostante avesse pendente su di sé, un mandato di cattura internazionale del Tribunale dell'AIA per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Sono scesi in piazza i sudanesi che mal sopportavano questo gioco di repressione e violenza e alla fine ce l'hanno fatta, sono riusciti ad ottenere quello che chiedevano, cioè la deposizione con l'aiuto dell'esercito di Bashir. Questi decenni di Omar al-Bashir al potere hanno significato violazioni dei diritti umani in quantità enorme, soprattutto in una regione del Sudan, cioè il Darfur, che tu conosci bene. Come è cambiata la situazione dopo la deposizione di al-Bashir e quali sono le prospettive di pace in questo momento? Diciamo che di progressi ne sono stati compiuti tanti, perché il 3 ottobre scorso la maggioranza dei gruppi ribelli che combattevano contro il governo, contro Khartoum per reclamare maggiore autonomia in Darfur hanno sottoscritto un accordo di pace nell'ottica di collaborazione con il governo di transizione che ha preso il potere dopo la fase della giunta militare che ha poi portato all'istituzione di un consiglio sovrano affiancato da un esecutivo civile guidato da un economista, tra l'altro un profilo di elevatissimo spessore, un economista della Commissione Economica delle Nazioni Unite, quindi un personaggio molto credibile, Abdel Alamdok. Quindi questo accordo ha portato praticamente al governo sette dei leader di questi gruppi ribelli e quindi si presume che possa esserci una pacificazione in questa travagliata regione. Purtroppo resta l'incognita della sigla che non ha sottoscritto quest'intesa e in un'area, in particolare nell'area del Jebel Marra, continuano ad esserci scontri tra le milizie filogovernative e i ribelli che ancora contrastano, che non accettano questo governo e ovviamente chi ne paga le conseguenze è la popolazione civile. Anche in questi giorni ci sono stati attacchi nei villaggi, tremende uccisioni e purtroppo ancora una volta stupri, perché ahimè in questa regione, in gran parte purtroppo sia del Sudan che in altre realtà dove si vivono conflitti così violenti, così forti, lo stupro è utilizzato come arma di guerra. Quindi possiamo concludere che la pace è un po' meno lontana, però rimane al di là delle incognite sugli scontri che ancora hai descritto come attivi, c'è un tema, un'eredità che il conflitto rischia di portarsi appresso, che è il tema della giustizia, della giustizia internazionale. Allora, Al-Bashir e i suoi sottoposti, ma insomma sempre figure di alto rango, sono ricercati ormai da anni dalla giustizia internazionale. Secondo te ci sarà un giorno in cui si celebrerà un processo non in Sudan, oppure in Sudan invece che a laia, ma insomma ci sarà una qualche forma di giustizia? Sicuramente non ci potrà mai essere una pace intesa come globalità di questo senso, cioè di anche compensazione di quanto è avvenuto in questi anni in Darfur. Parliamo di 400.000 morti, migliaia e migliaia di villaggi distrutti e appunto le donne, in particolare le donne vittime di questo crimine che è considerato a tutti gli effetti un crimine contro l'umanità, dunque non potrebbe esserci una pace definitiva se non ci fosse giustizia. Diciamo che anche in questo senso sono stati compiuti dei passi avanti. Lo scorso anno ha compiuto un viaggio per la prima volta e è andata in Sudan la procuratrice della Corte Penale Internazionale che ha incassato l'assicurazione da parte di Hamdok, del primo ministro, di una collaborazione a fronte del fatto che si attende comunque che prima si faccia giustizia in Sudan per altri crimini riconosciuti a Bashir, in particolare legati al golpe che nel 1989 lo portò al potere. è in corso appunto in Sudan un processo, quindi subordinano l'eventuale consegna di Bashir all'Aia all'esito di questo processo. Va detto che se venisse come è probabile considerato colpevole la pena è la condanna a morte. Ci toccherà in quel caso anche intervenire per difendere Omar al-Bashir, come è giusto che sia, ma insomma dopo aver condannato le condanne a morte di Ceusescu e Saddam Hussein per coerenza si farebbe anche quello, ma speriamo che ovviamente questo non accada e speriamo che ci sia una giustizia autentica basata su procedure eque, trasparenti. C'è un tema che ricorre sempre nei tuoi articoli, nei tuoi libri ed è il tema delle donne, della dignità delle donne e dei diritti delle donne. In questo periodo di transizione e direi fine transizione successivo alla caduta di Al-Bashir, c'è stato qualche passo avanti dal punto di vista della legislazione in questo campo? Assolutamente sì, devo dire che sotto questo aspetto sono davvero felice di aver constatato, di aver toccato con mano quanto questo processo democratico stia portando dei risultati veri, concreti, tangibili, basti pensare alla criminalizzazione dell'infibulazione, ovvero delle mutilazioni genitali femminili che purtroppo in Sudan sono da sempre perpetrate, perché è una pratica che è considerata un rito di passaggio, praticamente 9 bambine su 10 in Sudan venivano sottoposte e purtroppo, ahimè fino a quando non verrà inculcata questa nuova cultura, purtroppo ancora oggi vengono sottoposte a questo intervento, si tratta di una cosa molto cruenta per una bambina, molte già dai 7-8 anni vengono mutilate, e poi ci sono stati anche altri importanti passi in avanti relativi proprio alla vita quotidiana delle donne, a cominciare dalla possibilità di scegliere come vestirsi, fino a qualche mese fa era ancora in vigore una legge, fino allo scorso anno, che se una donna decideva, indossava dei pantaloni rischiava 40 frustate, e così anche per quanto riguarda i viaggi, se una donna intraprendeva un viaggio senza la presenza di un membro maschio della famiglia, incorreva in incriminazioni appena molto gravi. Antonella, saranno almeno 15 anni, forse no, secondo me anche qualcosa di più che ti occupi di Sudan, del Darfur, vuoi raccontare come è iniziato tutto questo? Beh, la prima esperienza in Darfur risale al 2005, quando per Vanity Fair andai a seguire un progetto del World Food Program, perché era iniziata da un anno e mezzo la crisi e purtroppo c'erano già centinaia di migliaia di sfollati, e tornata in Italia, scrissi sì il mio bel pezzo, però molte cose che avrei voluto raccontare, molte storie, erano rimaste fuori, perché ovviamente la centralità era il grande progetto umanitario, quanto era stato bravo il World Food Program intervenire, le interviste con i coordinatori del programma umanitario, e poi qualche storia. Questa cosa qui, con una serie di poche attenzioni di volte al tema dal mainstream, più un'intervista ad alcuni parlamentari che intervistati dalle Iene sul Darfur, gli chiedevano che cosa pensate la situazione in Darfur, adducevano per girare la domanda, girare la risposta che si trattava di uno stile di vita lontano da noi, che quindi non ci interessava perché confondevano Darfur con fast food. Questa cosa mi ha creato un'indignazione tale che ho deciso di creare qualcosa che potesse fare informazione alternativa. Era il periodo che nascevano i blog e sono riuscita in qualche modo, anche grazie ad altri colleghi, a operatori umanitari, attivisti per i diritti umani, a mettere insieme oltre mille blog che quotidianamente parlavano di Darfur. E quindi è iniziata così una campagna che è stata Italian's Blog for Darfur, che poi è diventata anche un'organizzazione, una vera e propria associazione, che ha portato avanti la campagna per illuminare la crisi del Darfur. Ci sono stati momenti dei Global Day a livello internazionale, celebrati anche a Roma. Abbiamo ogni anno dal 2007, quindi l'anno dopo che era nato questo organismo, questa associazione, dei rapporti e di cui tu sei stato spesso protagonista. Diciamo che questo nostro rapporto è nato anche così, questa nostra amicizia, proprio con il tuo interesse, il tuo impegno sul tema del Sudan, del Darfur. Ed è nato anche così il legame che ho con Amnesty. E poi di post in post, di Global Day in Global Day, di articoli in articoli, di libri in libri, di un portale molto importante come Focus on Africa, che tu dirigi e al quale ho l'onore di collaborare, siamo arrivati forse al momento più importante, cioè quando la tua passione per i diritti e la tua voglia di scrivere si sono incrociati con un periodo storico del Sudan. E da qui il tuo nuovo libro è uscito in questi giorni. Complimenti, già ci sono i primi webinar, quindi c'è un grande interesse intorno a questo libro. La sua genesi qual è? E mi sa che mio malgrado e il tuo malgrado c'è qualcosa che ci accomuna all'inizio di questa storia, no? Già, perché proprio nel momento più terribile della rivolta, delle rivolte che hanno poi portato alla caduta del regime di Bashir, io ero lì in Sudan a seguire le prime manifestazioni e mentre ero a Khartoum a riprendere dei palazzi, degli assembramenti sul Nilo, vicino al Nilo, mi hanno individuato degli agenti dei servizi di sicurezza e sostanzialmente mi hanno fermata e mentre questo stava avvenendo io ho compreso la gravità della situazione e ti ho scritto, ho iniziato a scrivere all'unica persona che credevo potesse aiutarmi se effettivamente fossi finita nei guai. Purtroppo in Sudan è una pratica quella delle sparizioni forzate e chi più del portavoce di Amnesty International esperti di questo tipo di attività dei regime poteva aiutarmi e poi, ovvio, amico, amico sincero di lunga data. Questa vicenda poi, proprio grazie al tempestivo allarme che tu hai dato si è risolta bene l'intervento della farnesina dell'ambasciata italiana lì a Khartoum ha fatto sì che in poche ore io fossi rilasciata e il peggio è stato quindi scongiurato. Da questo è nato l'interesse si sono accesi finalmente i riflettori sul Sudan e questa cosa qui ha innescato in me la voglia di raccontare questa cosa di scrivere, di fare in modo che l'attenzione che era arrivata su di me venisse proiettata invece sul Sudan, sul tema tant'è che io quando ne scrissi per Repubblica con richiamo in prima pagina e il Sudan, vi posso garantire, non era mai andato in prima pagina su Repubblica ma su qualsiasi altro quotidiano italiano e iniziai scrivendo non volevo essere io la notizia ben venga che ci sia stata questa vicenda arrivando ai giorni nostri ai mesi scorsi chiusa l'inchiesta che ha individuato i responsabili del mio fermo ovviamente illegale e quindi sono stati rimossi questi signori non potevano, non potranno farmi del male nonostante ci siano state anche delle minacce da parte di alcuni esponenti sedicenti fratelli musulmani sudanesi ho potuto scriverne ed è quindi nato Il Vestito Azzurro edito da People dal 18 febbraio in tutte le librerie e tu ovviamente sei protagonista perché comunque io racconto questo momento e oltre diciamo a tutto quello che poi intorno al mio fermo si è innescato ma il libro, la parte centrale del libro perché il fermo è in mezzo ma il libro si apre sulle rivolte e finisce sul Darfur con le testimonianze raccolte in Darfur appunto delle donne vittime di stupro in Darfur perché io dopo il fermo nonostante la farnesina volesse che tornassi in Italia avevo da portare a termine questo viaggio era già in programma che con un volo delle Nazioni Unite io passassi, andassi in Darfur nella regione del Darfur e ci passassi alcuni giorni visitando i campi e io con grande indecisione perché ovviamente prima di essere una giornalista sono un essere umano sono una donna, sono una mamma e quindi ho maturato la decisione di rimanere e di portare a termine il mio lavoro bene grazie io direi che ho parzialmente esaurito le mie curiosità perché poi ci vorrebbero due ore di intervista ma credo che le presentazioni del libro saranno una buona occasione per andare ulteriormente a fondo quindi l'appuntamento per tutte le persone che ci hanno seguito fin qui e a seguire le presentazioni online e poi quanto prima speriamo in presenza del libro Il vestito azzurro di Antonella Napoli merito da People grazie Antonella ridò la parola allora a Lidia grazie grazie Riccardo grazie e leggeremo tutti spero che veramente in tanti leggeranno questo nuovo libro di Antonella Il vestito azzurro che secondo me sarà una cosa che ci darà delle interessanti novità sul Sudan e saluto tutti grazie di nuovo Antonella e a presto grazie Lidia grazie Riccardo grazie a tutti voi di Amnesty compreso Anna la regia e spero di avere modo di ritrovarvi in altri momenti e magari come auspicava Riccardo in presenza perché è sempre bello avere un contatto umano raccontarsi le cose guardandosi negli occhi quindi ancora grazie e se avrete voglia di leggere Il vestito azzurro poi aspetto feedback mi trovate sui social oppure attraverso Amnesty grazie ancora di cuore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti